Personale della squadra edilizia ambientale dei Vigili Urbani di Vittorio ha progeduto ad effettuare nel fine settimana delle verifiche nei cantieri edili del territorio extraurbani ascoglitti al fine di accertare la regolarità edilizia delle costruzioni in corso d'opera. Al termine sono stati sequestrati due cantieri, uno incontrato a Bosco Rotondo per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi composti in massima parte da Eternit e il secondo nella vicina frazione per attività svolte in assenza di autorizzazioni. I proprietari sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. In città invece sempre i vigili sono intervenuti in via Rattazzi presso un immobile per sospette esalazioni tossiche su segnalazione di alcuni cittadini residenti nelle vicinanze che lamentavano possibili esalazioni nocive nell'aria. All'interno dell'immobile erano rinvienute numerose confezioni di prodotti chimici antiparassitari in via di catalogazione da parte dell'ASP di Ragusa. Sono pertanti dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che però non hanno rilevato durante il sopralluogo pericoli per la salute pubblica, prelevate anche campioni di terreno dal cortile di pertinenza dell'immobile e oltre a prelievi di refui fognari, mentre il proprietario è stato denunciato all'amministratura per violazione delle norme in materia di fitosanitari e alla conservazione e utilizzo di prodotti di tossici.